Il riparto della linea mini È una macchina che abbiamo introdotto nella nostra gamma circa un anno fa, poco più di un anno fa, anche se è una macchina, è un studio, è un progetto che abbiamo iniziato nel 2010 perché abbiamo visto proprio il desiderio da parte dei nostri clienti di poter erogare un caffè, come un cappuccino, come al bar a casa. Mantenendo tutte le caratteristiche della macchina per caffè, la Marzocco, quindi doppia caldaia, c'è una caldaia che eroga solo vapore e acqua calda per fare tè e una seconda caldaia per riscaldare l'acqua che viene usata nella produzione del caffè espresso. Abbiamo anche mantenuto tutto quello che è il nostro valore, quello della costruzione delle nostre macchine usando caffè in acciaio e non in altri materiali.